Possiamo dire, ad esempio, che questa dinamica di grande aggressività tra i due blocchi, il centro-sinistra e il centro-destra, è perché sono molto simili dal punto di vista della politica economica. Se vince la Lega o se vince il centro-sinistra, il PD, le Sardine, quella roba lì, nessuno mette in discussione l'impianto liberista del sistema. Quindi stiamo... e più sono uguali e più litigano, perché la poltrona è la stessa. Io non litigo con Capezzone, che sta lontano da me, anni luce. Perché? Perché la mia visione di società, la mia visione dove contano i lavoratori, conta il lavoro, è agli antipodi suoi, ma anche della Moretti, che fanno le stesse cose dal punto di vista. Cioè, alla fine, uno risulta... Più tasse e meno tasse. Se è simpatico, Salvini è antipatico. Infatti, si gioca tutto sulla propaganda. Marco Rizzo ha detto... posso dire una cosa velocissima solo? Marco Rizzo ha detto un pezzo, a mio avviso, di verità. Un pezzo no. Guarda, Marco, c'è un punto su cui non sono tutti uguali. Gli italiani hanno capito che se votano centrodestra, ci saranno difetti belli, brutti, ma meno tasse e immigrazione controllata. Se votano a sinistra, più tasse e immigrazione fuori controllo. Ma l'immigrazione di cui parlate voi è il 7% nei porti. L'immigrazione arriva al 7% al resto dell'immigrazione. Marco, non lo farei pari. Chiamateli padroni voi, basta a nostri imprenditori, chiamateli padroni. Capisco che la cosa vi nervosissima. Per gli elettori è chiarissimo. A casa non capiscono niente. Sono uguali, litigano. Rizzo ha fatto una questione a Rampini, Rampini risponde, poi Toti naturalmente. Allora, i due blocchi sono talmente simili che devono litigare sui dettagli. Rampini è così? Sì. Io sono abbastanza d'accordo con Rizzo che la differenza di politica economica tra governi di centrodestra e governi di centrosinistra, come li vogliamo chiamare, è minima perché nessuno degli ultimi governi ha avuto la forza politica qui a Bruxelles, dove io mi trovo in questo momento in transito, a scardinare le rigidità europee. Nessuno ha avuto la forza politica per prendere di petto un pensiero economico distruttivo che è stato quello dell'austerity. Questo è il grande tema che ancora è lì, è un macigno enorme. Rizzo, hai esposto una tesi interessante, cioè che i poli non siano così diversi e che quindi debbano litigare tutto il giorno per marcare il territorio. Voglio sapere cosa ne pensa un grande giornalista come Giovanni Tò. La seconda osservazione, io non credo che oggi ci siano effettivamente distinzioni, ma come in tutto il mondo, insomma, tra repubblicani e democratici in America, non è che si mette in discussione il sistema America. Ci sono alcune differenze anche sostanziali all'interno di un medesimo sistema. Io questo lo trovo anche giusto ed opportuno.